Maestro, visto che ormai tu c'hai anche una certa età, come deve essere la badante perfetta? Giovane, non italiana. E cosa doveva fare questa badante in casa? Il sesso orale. Che donna bellissima. Mamma, che paura. Te sei disponibile a fare la badante a un signore con un... Mi piacere la badante. Sei bellissimo. Diria di no. A 50 anni farei altre cose. Ma lui che le fa fare altre cose. Ma scusami. Te sei la badante sua? Sì. C'è da rianimare di molto? Ma ce la fa o non ce la fa? Ce la fa, ce la fa. Una volta straordinaria. Per ora. Per ora funziona. Ma lo fai di lavoro proprio o ti dedichi solo a lui? Mi dedico a lui. La faccia l'este, la ci vorrebbe. Immagini uno sulla carrozzella. Di dove sei? Sono bulgara. Tu saresti perfetta per la badante del maestro. Ma scusi, lei mi sta prendendo in giro? Un po' sì. Qual è la nazionalità che tu preferisci riguardo alle badante? Brasiliani. Perché sanno un lato bifavoloso. Anche se hanno 30, 40 anni. Ma sono sempre molto sodio. Ci pongono meno domande, meno problemi. Fanno il benessere dell'assistito. Tutto l'apparato riproduttivo che era in catalessia. Miracolosamente si sveglia. E allora si risente ancora giovane. Poi ci sono quelli che l'avessero sposano per prendere la nazionalità, per prendere i quartieri. Vedi cosa fa? Tira più un pelo di top e ti dico buono. Questi qui già sono rincretiniti alla nostra età. Sto cercando una badante per uno che mi sembravi bella. Mi sembrava anche... Ti prego. Un po' sulla mezza età, una bella donna. Come se è un po' vogliosa? Perché lui figlia solo le donne voglioni. No, io no, 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 no. Ma si fanno toccare? Come funziona? Sì, le tocchi. Loro dicono... Cioè, sembra che non vogliono. Poi alla fine, dopo un po' cedono. Ma vogliono l'extra? Vogliono l'extra? Che è una puttana, no? L'ho avuto soltanto per scopi diversi, non per scopi di assistenza. E quello che deve fare la badante è assistere questo disgraziato. che è lì, fermo, che non so che... La bava la bocca, che è lei, a capire... Però dentro il mamma non ce la fa. Per essere una badante perfetta, cosa deve fare una badante? Guardare, badare alla persona per cui sei stato assoluto. Se va tutto bene. Se va tutto bene. Se non va tutto bene, deve intervenire. Intervenire, sì. E il vecchietto, secondo lei, che cosa vorrebbe da una badante? Siamo sotto censura. Sì, però mi contento. Lui c'ha 75 anni e io ne ho 72. Per ora si va bene. Cioè tu gliene dai, eh? Con farci, ma un pochino ogni tanto, io madonna. Ho trovato anche delle donne, dice, ma a me meno di 18... 18, no, mi dispiace, io tagliammi le due centimetri per te un posto. Allora, mandate via! Non potrei fare la badante. Neanche a Berlusconi. Ci vuole stomaco. Ma va a fai il tuo.